Non ce l'ha fatta Leonilde Roncoroni, l'89enne investita a mercoledì scorso in via Roma a Uggia Tetrevano da un'automobilista che poi è scappato senza prestarle soccorsi. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto, l'anziana è morta all'ospedale Sant'Anna dove era ricoverata in condizioni disperate. Intanto prosegue senza sosta la caccia al pirata della strada, la procura di Como ha aperto un fascicolo, attualmente contro i gnoti, per omicidio colposo e omissione di soccorso. Mercoledì sera attorno alle 19.30 Leonilde Roncoroni stava rientrando a casa a piedi in via Roma, mentre attraversava la strada è stata travolta da una vettura che è fuggita senza fermarsi. La donna è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso di Sanfermo della Battaglia, ha lottato fino alla tarda serata di ieri quando il suo cuore ha smesso di battere. Dopo l'incidente per i rilievi a Uggia Tetrevano sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale Unione dei Comuni Terre di Frontiera. I vigili hanno raccolto tutti gli elementi utili per risalire all'auto che ha investito la donna, lasciandola poi a terra in fin di vita. Nell'impatto, la vettura dell'investitore ha perso una parte del coprilava faro anteriore. Analizzando il pezzo, gli agenti sono riusciti a risalire al modello della macchina investitrice, una BMW Serie 3 Gran Turismo color Midnight Blue. I vigili stanno dunque verificando le matricolazioni per individuare il possibile proprietario del mezzo. Al vaglio degli agenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Dalle prime analisi dei video è stato possibile accertare che la BMW usciva da un supermercato e poi si diretta verso la provinciale Lomazzo Bizzarrone. Dietro alla vettura che ha travolto Leonilde c'era una seconda BMW scura modello Z4 che a sua volta non si è fermata. I vigili stanno valutando ora anche la possibilità di controllare i dati degli scontrini del supermercato nella speranza di trovare informazioni utili. Gli agenti della polizia locale invitano chiunque avesse informazioni a contattare il numero 031 80 31 45 perché ogni dato potrebbe essere prezioso. Dopo la notizia della morte dell'anziana il sostituto procuratore Mariano Fadda ha aperto come detto un fascicolo per omicidio colposo e omissione di soccorso. L'inchiesta è al momento contro ignoti.